Siamo con una notevole, nutrita rappresentanza di mercatali per tutte le categorie, intanto ascoltiamo che cosa dice Beria De Fazzi che da anni rappresentava un po' quell'antico mercato, ancora oggi è una voce importante e significativa. Arrivano sempre questi diffide da parte del commissario Sartoriello per andare giù perché vuole che il blocco di San Lorenzo vada giù e noi purtroppo non siamo d'accordo, non perché non vogliamo ma perché sarebbe proprio l'ennesima sfida stupida verso i mercatali. Anche perché stanno arrivando adesso le festività pasquali, quindi vogliamo farle qua e poi soprattutto vogliamo chiarezza che fino adesso non c'è stata, ritornare giù insieme o quantomeno con un cronoprogramma fatto bene, sintetico e giusto. Uno per tutti, tutti per uno uno per tutti, o tutti insieme o se no ne siamo qua, perché il lavoro va fatto globale, non è che uno un pezzo qui e un pezzo là, la gente si disperde, la gente già ci capisce poco con i box che non si è a trovare i punti, perciò noi chiediamo fermamente di spostarsi tutti insieme. Il tutto è legato al momento della consegna delle chiavi, praticamente sono anni che si dice che i mercatari non si vogliono spostare perché hanno interesse a rimanere qua, questo è quello che fa passare la politica da anni, noi ad oggi non abbiamo la chiave. Il commissario, visto che una delle tante riunioni ci aveva dato l'ok per un trasferimento collettivo, tutti insieme a breve tempo, verso i primi 15 giorni di marzo, al minuto oggi siamo arrivati quasi a fine aprile, il mercato del pesce, l'ittico non ha le chiavi, le superfetazioni non sanno cosa fare e noi siamo obbligati ad andare di là. A cosa fare? Perché cosa? Per andare a morire? Il mercato è una famiglia e la famiglia non si divide, noi rimaniamo qui fermamente. Abbiamo delle difficoltà qui enormi, io personalmente le ho enormi e non vedo l'ora di poter andare giù, però se non siamo pronti è inutile, non siamo pronti noi, è l'amministrazione che non ci mette in condizione di essere pronti. Una volta ci mette in condizione di essere pronti, noi in 5-6 giorni, specie San Lorenzo, è pronto ad andare giù. Grazie a tutti.